Palazzo Bonelli non fa più parte dell'elenco degli immobili da alienare del comune di Barletta. Lo ha deciso ieri la giunta guidata dal sindaco Cannito, accogliendo le perplessità di chi avrebbe voluto una discussione maggiormente partecipata sul destino da assegnare ad uno degli immobili di maggiore pregio del patrimonio storico ed architettonico della città. L'amministrazione modifica così il proprio orientamento rispetto a quanto deliberato pochi giorni prima, chiarendo che la vendita di un palazzo vincolato dalla soprintendenza ai beni culturali è comunque impedita dalla legge e che nel caso specifico si sarebbe potuta avallare solo una concessione ai privati. Il vice sindaco Marcello Lanotte ha spiegato ieri in consiglio comunale la difficoltà di dare seguito alla valorizzazione di immobili con gravi problemi strutturali come nel caso di Palazzo Bonelli. I problemi nella valorizzazione sono rappresentati dal costo importante che occorre per un restauro conservativo perché poi sarebbe anche improprio parlare di manutenzione e chiaramente dei costi che devono essere sostenuti da soggetti che possono avere in affidamento, in concessione al massimo per 50 anni questi beni perché c'è un limite temporale imposto dalla legge. Noi crediamo che non ci sia un business planning sostenibile da un privato che per 50 anni possa poi trarre profitto e utile anche da questo bene immobile, anche perché non mi pare che dal risorgimento ad oggi ci siano tanti mecenati nella nostra città. Aspettiamo con interesse di conoscere quelle che sono le proposte. Noi una proposta l'abbiamo fatta, abbiamo avuto la capacità di mettere al centro la discussione politica in città la questione relativa al patrimonio immobiliare comunale. Adesso chi non condividiva questa nostra scelta è giusto che faccia delle proposte. Il Movimento 5 Stelle ha riacceso in aula il dibattito sul mancato rispetto della parità di genere all'interno della giunta comunale, al momento rappresentata da sette uomini e tre donne. Ieri la consigliere di parità della Regione Puglia, l'avvocato Anna Grazia Maraschio, ha inviato una formale diffida al sindaco, con la quale lo invita entro cinque giorni a rafforzare la presenza femminile nell'esecutivo. L'amministrazione si è fatta carico di risolvere la vicenda anche per evitare un eventuale ricorso al TAR. A tornare in discussione è la posizione dell'assessore Nicola Salvemini, che un mese e mezzo fa prise il posto di Anna Maria Lacerenza, determinando l'attuale squilibrio di genere all'interno della giunta. È un obbligo di legge a cui il sindaco sicuramente nei prossimi giorni dovrà adempiere, e sono certo che ci sta già lavorando, e troverà una soluzione che possa contemperare le esigenze di tutti, in particolar modo la tutela degli interessi dei cittadini. Il Consiglio ha anche approvato la revisione e l'aggiornamento del documento strategico del commercio con importanti novità per gli operatori del settore. Abbiamo dato delle regole certe agli imprenditori che vogliono aprire medie strutture di vendita nella città di Barletta, abbiamo dato la possibilità di rispettare anche in questo caso l'interesse pubblico attraverso la stipulazione di convenzioni che possano prevedere degli interventi di carattere imprenditoriale, ma che garantiscono il pubblico interesse, tipo la creazione in queste medie strutture di ludoteche, di biblioteche, ma anche di aria a parcheggio che possono rappresentare anche uno sfogo per i cittadini che non necessariamente si ricano in queste strutture ad acquistare. Ma poi la cosa più importante è la creazione di un distretto unico del commercio che prevede tutta la parte storica, quindi quella rientrante nell'ambito delle zone omogenee A, nella zona omogenea della nostra città, che viene allargata ed estisa anche alle litoranie. E negli scorsi giorni la notizia è che Barletta avrà un proprio termine al crocire per crocire di lusso, immaginiamo qui negli anni di poter sviluppare una vera e propria marineria del commercio della nostra città.